Ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo video della serie su JavaScript. Oggi vediamo le funzioni, che sono uno dei blocchi fondamentali della programmazione. Una funzione è fondamentalmente un set di istruzioni scritte da noi programmatori che può essere richiamata quando vogliamo e che svolge una determinata task o un'operazione specifica. Facciamo un esempio. Per dichiarare una funzione usiamo la keyword function poi diamo un nome alla funzione, che è a nostra discrezione. Per esempio saluto. Successivamente due parentesi tonde al cui interno potremmo specificare dei parametri ma vediamo più avanti cosa sono ed infine le solite parentesi graffe al cui interno scriveremo la logica della funzione. Ciò che sarà all'interno di queste parentesi è il corpo della funzione ed è qua che specifichiamo tutti i statement che definiscono la logica della funzione. Ad esempio questa funzione ha il compito di mostrare un saluto sulla console quindi semplicemente scriviamo console.log ciao mondo punto e virgola Vedete che questo console.log è uno statement ed infatti abbiamo aggiunto un punto e virgola alla fine ma quando dichiariamo e definiamo una funzione non lo dobbiamo mettere perché non la stiamo dichiarando come se fosse una variabile. Bene, ora abbiamo la funzione ma se salviamo il codice e andiamo nella nostra pagina web ad aprire la console vedete che non ci compare nulla. Questo perché non abbiamo richiamato la funzione infatti il codice contenuto in una funzione viene eseguito soltanto quando viene richiamato ed è proprio questo il punto forte delle funzioni infatti noi possiamo richiamare quante volte vogliamo la funzione senza dover copiare e incollare lo stesso blocco di codice quindi per richiamare la funzione basta scrivere il nome della funzione quindi nel mio caso saluto mettere due parentesi tonde quindi aprire e chiudere una parentesi tonda e al suo interno inserire i parametri siccome noi non abbiamo nessun parametro lasciamo le parentesi vuote e mettiamo un punto e virgola ora possiamo salvare ricarichiamo la pagina e come vedete ci viene stampato ciao mondo sulla console questa funzione rimane però noiosa per renderla più interessante possiamo aggiungere degli input che permettono alla nostra funzione di essere più modulare questi input sono detti appunto parametri quindi ipotizziamo ad esempio di volere richiamare questa funzione un tot di volte e la prima volta vogliamo mostrare un saluto la seconda volta il nome Mauro la terza volta un altro nome e così via beh usando i parametri possiamo fare proprio questo quindi scrivere il codice dalla funzione una sola volta ma che cambia il risultato ogni volta che la richiamiamo per aggiungere un parametro andiamo in queste parentesi tonde che vi dicevo prima e scriviamo il nome del parametro che come per le variabili possiamo decidere noi programmatori ed inoltre può essere di qualsiasi data type quindi string, array, numeri, boolean eccetera quindi diamo un nome al primo parametro ad esempio nome e modifichiamo questo console log quindi manderemo a schermo ciao spazio poi una virgola per aggiungere un'altra stringa in questo caso aggiungiamo il nome dove il nome varia in base a cosa inseriamo noi quando richiamiamo la funzione quindi proviamo a far stampare ciao Mauro per farlo dobbiamo andare qua nella riga in cui richiamiamo la funzione e all'interno delle parentesi tonde inserire il valore del parametro siccome noi vogliamo far comparire Mauro scriviamo tra virgolette Mauro ora salviamo il codice ritorniamo nel browser quando ricarichiamo la pagina ecco qua che ci compare ciao Mauro come vi ho detto però il punto forte dei parametri è che ci permettono di cambiare il risultato ogni volta che richiamiamo la funzione quindi copiamo e incolliamo questa riga di codice sotto e nel secondo caso inseriamo ad esempio Leonardo ora andiamo nel browser e come vedete questa volta ci compare sia ciao Mauro e sotto ciao Leonardo ovviamente possiamo inserire quanti parametri vogliamo nelle nostre funzioni separandoli con una virgola l'uno dall'altro proviamo ad aggiungere un parametro età a questa funzione quindi come vi ho detto virgola per separare i parametri l'uno dall'altro e poi il nome del secondo parametro nel mio caso età ora mostriamo questa età nell'output su console quindi scriviamo ciao il nome ad esempio ciao Mauro virgola l'età è due punti virgola e stampiamo anche l'età questo secondo parametro lo dobbiamo passare quando richiamiamo la funzione quindi qua sotto inseriamolo nel primo caso ad esempio 40 mentre nel secondo caso 27 ovviamente come vedete anche quando andiamo a inserire i parametri nel momento in cui richiamiamo le funzioni li separiamo con una virgola quindi salviamo di nuovo il codice ricarichiamo la pagina e come vedete nel primo caso ci viene detto ciao Mauro l'età è 40 mentre nel secondo ciao Leonardo l'età è 27 una funzione javascript può anche essere definita usando un'espressione che può poi essere salvata in una variabile facciamo un esempio qua sotto quindi ad esempio creiamo una const che chiamiamo x che è uguale a function quindi come prima mettiamo la keyword function poi possiamo inserire dei parametri ad esempio a virgola b quindi due parametri poi aprire le parentesi graph e al suo interno scrivere la logica della funzione ad esempio console.log a virgola b punto e virgola inoltre un'altra cosa importante dobbiamo mettere il punto e virgola fuori dalle parentesi graph siccome si tratta di uno statement eseguibile bene fatto ciò possiamo usare la variabile come se fosse una funzione quindi ad esempio let z è uguale a x ed inseriamo i due parametri ad esempio 56,90 punto e virgola questa funzione è detta funzione anonima poiché non serve assegnarle un nome e per richiamarla come abbiamo fatto qua basta usare il nome della variabile in cui è stata salvata nel mio caso x ora se ricarichiamo la pagina vedete che ci compare anche l'output della seconda funzione ossia 56,90 bene in questo video abbiamo visto le funzioni ovviamente c'è un mondo da esplorare su questo argomento ma per qualsiasi domanda o richiesta scrivete un commento mettete like al video se vi è piaciuto per supportarlo con l'algoritmo di youtube e noi ci vediamo nel prossimo video